Salve a tutti amici artisti, con questo video voglio mostrare il mio setup da BIM 2018 Tanto rispisto, ma non prendiamoci di anche e partiamo con il video Il case è un Hitec Ninja USB 3,12 cm Green Fan, Kit con Trasparent Wind La maggior parte dei componenti sono CPU Intel Core i5 3,40 GHz 8 MB Scheda madre MSI Pro VD RAM DIMDDR4 8 GB Alimentatore 500 W Hard Disk 3,5 1 TB Il monitor è un monitor LED 22 pollici ASUS Full HD Grazie a tutti i nostri amici! La telecamera è un 4K Sport Ultra HD DV Water Resistant 16.0 megapixel 4K 30fps Wi-Fi 264 Hz La webcam è una Microsoft Live Cam HD Le casse sono della Thrust e anche il microfono Grazie a tutti i nostri amici! Grazie a tutti i nostri amici! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like e iscrivetevi al canale. Al prossimo video.